La regione Piemonte è una delle più grandi risorse, certamente quella del legno. Siamo la regione d'Italia che possiede più foreste e soprattutto che possiede più foreste pubbliche, di proprietà dei comuni della regione e quindi che può mettere a disposizione delle imprese che lo vogliono utilizzare. La regione Piemonte ha fatto un bando sulla filiera legna energia, cioè la produzione di energia pulita da massa legnosa, alla quale hanno partecipato più di 30 soggetti e ciò significherà che si creeranno nei prossimi anni decine di posti di lavoro e molti megabyte di energia pulita. Posti di lavoro che peraltro saranno direttamente legati ai territori in cui si produrrà l'energia. Quindi è una grande opportunità che la regione ha di utilizzare una sua risorsa e da questa risorsa trasformarla in energia pulita e soprattutto creare grandi capacità occupazionali.